Lui mi metteva sempre le mani addosso. Quando hai il prete che ti tocca ogni giorno, è un ricordo pesante. Le storie dei sopravvissuti e i dettagli delle 884 pagine del rapporto del gran giurì sono difficili da ascoltare. Padre Robert ha fatto sesso orale con i suoi studenti dicendo loro come Maria aveva purificato Gesù dopo essere nato. I due anni di investigazioni hanno dato informazioni molto forti, accuse contro più di 300 preti, coinvolgendo più di 1000 bambini. Anche se il procuratore generale dice che per tutte le orrende storie di abusi di questi ultimi 70 anni, probabilmente ci sono più vittime che non hanno parlato. La spina dorsale delle investigazioni sono i documenti della Chiesa Cattolica, in cui si vede il sistematico insabbiamento. Sopra ogni cosa, essi hanno protetto a tutti i costi la loro istituzione. Ma per tutti i rapporti rivelati, ce ne sono ancora molti nascosti. Sono stati compilati più di 200 nomi di clericali informati, mentre si confrontano le scoperte nella corte. Tra quei nomi c'è l'arcivescovo Donald Whirl, uno degli ufficiali cattolici americani più importanti. Egli fu vescovo di Pittsburgh per 18 anni. E mentre avvisò il Vaticano del problema, il rapporto dice che aiutò a spostare i preti abusatori da una chiesa all'altra. Oggi egli difende le sue azioni e si aggiunge alle scuse degli altri clericali. Io offro umilmente le mie scuse sincere. Tutti noi dobbiamo prendere a cuore questo rapporto. Ma dopo gli scandali a Boston, Dallas e altrove, gli avvocati dicono che non è abbastanza. Queste diocesi devono essere investigate dal governo, senza dipendere dai rapporti ecclesiastici, perché il rapporto del gran giurì dimostra che essi hanno coperto. Il procuratore generale della Pensilvania dice che dopo aver tolto il velo di segretezza, il prossimo passo è di cambiare lo stato delle limitazioni, perché molti dei crimini sono successi molto tempo fa e molti dei preti citati non saranno mai accusati. CBS News New York Il Vaticano non commenta sul rapporto della Pensilvania. Sono molte decadi che la Chiesa Cattolica soffre per gli scandali degli abusi sessuali e molti cattolici aspettano che Papa Francesco possa modernizzare la Chiesa. Quest'anno, Papa Francesco è stato il primo a denunciare pubblicamente una cultura di abuso e copertura e il suo approccio, tolleranza zero, è stato provato proprio il mese scorso, quando accettò le dimissioni del più alto livello della Chiesa, il cardinale Theodore McCarrick, ex arcivescovo di Washington DC, che retrocesse a causa degli abusi sessuali. Gli osservatori dicono che Papa Francesco non sta gestendo con decisione la situazione e all'inizio di quest'anno si attirò forti critiche perché difese un vescovo del Cile riconosciuto in Cile essere un prete che abusava sessualmente. Eventualmente egli accettò le dimissioni del vescovo. Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni Sottotitoli e Sottotitoli e